Ringrazio il mio partito per avermi indicato come l'assessore della Giunta Trantino e il sindaco per aver raccolto questo invito e avermi nominato assegnandomi una delega davvero importante, quella dell'ecologia, ambiente, verde, urbano, che sicuramente è sfidante. Per me è un motivo di grande orgoglio potrei servire nuovamente la città e lo farò con tutte le mie forze H24 per cercare di migliorare la situazione nella nostra città.